Ciao, come va? Ciao! Tu sei quella... nuova, vero? Pare di sì. Tu mi hai... Ah, no, insomma, scusami. Per quello che vale, quella rista risponde al vero. Lei è la mia ragazza. Quel che è mio è tuo, giusto? Forza, bello, basta! Basta, lasciala in pace, dai! Non so, fuori di qui! Fermo! Fermo, vai! Anna Baker. Che fine di merda, vero? Una ragazza bellissima. Scusa, ma io... Davvero... Non è in cura! Prima ci divertiamo. Bryce! L'hai violentata. Qualche giorno prima che si tagliasse le vene e si lasciasse morire, tu l'hai violentata. Lei è venuta alla mia festa. Ma aveva una gran voglia. Questo non lo dovevi fare. Non lo dovevi fare. Lei voleva me. Me. Se questa violenza ogni ragazza della scuola vuole essere violentata. E in quei momenti mi sembrava... Mi sembrava di essere già morta. Che cazzo sei venuta qui insieme a Brian? Dimmi che cazzo di problema c'è! C'è che ti ha violentata! Contenta, ora! Justin, fratello... Tu non sei, fratello, merda! Ma si è fermati, cazzo! Dovevo ammazzarti, voglio riportare! Lei ha registrato delle cassette prima di morire. Racconta quello che le è successo. Quello che tu hai fatto. Anche di Jessica. Tanto chi darà mai retta una morta? Credo che lo scoprivi. Justin, tu sai com'è andata, no? Sì, ora mi è chiaro. Ci vediamo in giro? No, non credo proprio. Hai violentato oppure no, Anna Baker. Se vuoi chiamarla violenza, chiama la violenza. Per me è la stessa cosa. No, non credo che la violenza, chiama 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 la violenza. Grazie a tutti.